Esercizio abusivo della professione medico-dentistica in assenza della prescritta autorizzazione sanitaria, denunciato l'odontotecnico verbanese Antonio D'Amato, titolare del Dental Studio SAS. Le indagini, dirette dal sostituto procuratore Laura Carrera, sono state svolte dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria, coordinati dal luogotenente Massimo Verzotto. Insieme ai colleghi del NAS di Torino, i militari nei giorni scorsi hanno sequestrato lo studio dentistico nel quale veniva svolta l'attività, che si trova in via San Fabiano a Intra, apponendo i sigilli. Tutto era partito dalla segnalazione dell'ordine dei medici del VCO. Il sequestro dello studio è già stato convalidato dal GIP. Le indagini intanto però proseguono per accertare la presenza di eventuali complici nei reati che vengono contestati all'odontotecnico. Grazie.